Settimo Valmessa Graffiti, Memorial Erring Toivonen. Siamo in compagnia di Claudio Villa, che è un collaboratore e speaker dell'organizzazione. Claudio, vuoi dirci, tu praticamente non hai mancato neanche un'edizione del Valmessa Graffiti? Sono praticamente la voce ufficiale, fortunatamente, di questa bellissima manifestazione che è cresciuta di anno in anno in maniera importante, esponenziale. Siamo arrivati dall'altro anno ad avere il due volte campione del mondo, Mickey Biazion, fra i nostri apripista. Claudia Peroni, la regina dei box, è stata ed è ancora anche quest'anno fra le nostre apripista d'eccezione. Abbiamo Harry Toivonen, il fratello del compianto Henry Toivonen, pilota Lancia, che quest'anno ha deciso di portare un trofeo esattamente dalla Finlandia, un trofeo vinto. Questi sono i motori che, sentite, oggi è una festa dei motori. Abbiamo le mini moto, abbiamo il go-kart, abbiamo il drifting, abbiamo veramente tante cose. Tra l'altro quest'anno la possibilità di girare in questo magnifico cartodromo, siamo ospiti della famiglia di Piero. Veramente abbiamo potuto diversificare per il primo anno il Valmessa Graffiti in queste tre sfaccettature. Un classic, quello che è praticamente giunto alla settima edizione, un expo per gli appassionanti delle macchine d'epoca, dei gioielli da esposizione, e purtroppo da non andare a rischiare sulle strade del classic. E poi il racing che ieri si è svolta in pista, con una sezione dedicata alle auto di preparazione in configurazione da pista. Siamo contentissimi, anche quest'anno l'annovero dei partenti ci conta un circa 140 unità, che è il massimo di quello che ci consente anche la viabilità stradale. I comuni che ringraziamo, perché anche quest'anno sia il comune di Villardora, il comune di Buttigliera Alta, per la prima volta ci hanno dato una grande mano. Che dire, direi di andare e di invitare tutti gli appassionati a seguire la manifestazione su Facebook, a seguire sui canali, su questo canale Cucina Channel, che sta prendendo anche una versione e una posizione importante a livello motoristico con un'altra sessione dedicata. Direi veramente di andare a vedere su tutti i filmati che riguardano la Valmessa Graffiti e potrete capire di che cosa sono stati capaci gli organizzatori. Grazie a tutti!